E adesso vediamo dei giovani talenti musicali alla ribalta in Umbria per il festival Lassisi nel mondo. Il servizio è di Enrico Zenobi. Laura Bortolotto e Paolo Tagliamento Violini, Leo Morello Violoncello, 13 e 12 anni. A Montefalco hanno seguito un concerto di Vivaldi accompagnati dall'orchestra Zinaida Gilels, un vero e proprio laboratorio musicale per giovanissimi talenti. In programma anche un concerto con l'arpista Marta Marinelli, un'altra piccola grande solista. Ascoltarli suonare si resta stupefatti. In questo periodo l'Umbria è una palestra per tanti giovanissimi talenti. Il festival Lassisi nel mondo gli offre la possibilità di tirare fuori tutto l'entusiasmo e la sensibilità che hanno dentro, a dispetto della giovane età che rappresenta uno stimolo per dare il meglio. È tutto, grazie dell'attenzione, vi lascio a porta a porta e vi ricordo poi più tardi il Tg1 della notte. Arrivederci.